Domani il varo del decreto sblocca Italia in Senato per l'ennesimo voto di fiducia che imperisce qualsiasi modifica. Conferenza stampa stamani dinanzi al Palazzo dell'Aggiunta di Gianni Rosa, consigliere regionale di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia, per dire no a delle norme che, ricorda l'esponente di opposizione, espropriano a Basilicata del diritto di decidere sul petrolio. La regione, aggiunge Rosa, sarà soggetta a numerose perforazioni senza, come accade da 15 anni, alcun controllo sull'impatto ambientale. Ma i Lucani stanno prendendo coscienza dei propri diritti. Siamo da soli a protestare, conclude Rosa, perché la classe politica e succube del Presidente del Consiglio è interessata solo a portare avanti i propri interessi. Una protesta singolare con i volti di Matteo Renzi e Marcello Pittella stampati su banconote da 500 euro. Noi oggi facciamo questa protesta per significare che Pittella sta svendendo la Basilicata a Renzi. La svende perché non ama i Lucani ma soltanto perché deve alimentare le sue fidiere, tra cui pagare la cambiale del fratello che è capogruppo al Parlamento europeo. Noi siamo per gli interessi dei Lucani. Pittella, Renzi decide con questo decreto di aprire o chiudere il rubinetto a suo piacimento e riversare sulla Basilicata soltanto i danni per l'ambiente e la salute. Pittella porta con sé qualche spicciolo con quel decreto Sblocca Italia, spiccioli che gli servono soltanto per alimentare le sue clientele e il suo Bancomat regionale.